E beh a tutti ragazzi, qua è MonsterX e siamo tornati in un nuovissimo video di Brawl Stars ragazzi. Quest'oggi porteremo Ems al grado 10 che ho trovato ieri, quindi già portato al grado 10. Però prima di farlo ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare like e di attivare quella fototissima campanellina così non vi perderete nessun mio fantastico video. E anche dovete condividerlo a tutti i vostri amici e dirgli di iscriversi subito. Intanto guardate quanto è brutta. Vabbè. Ah giusto, ragazzi vi devo anche dire che finalmente ho trovato l'abilità stellare di Bombardino Cocktail Micidiale. L'ho comprata ragazzi, sì. Oh, Eugenio Malvagio, figo. Peccato che non ha Eugenio. C'era una cassa, c'era una mega cassa in vendita con i punti stellari. Infatti ho portato Mortis al grado 10, così mi davano i punti stellari. Mi scuso se non l'ho fatto in un video, però era urgente e non ho trovato niente. Però dopo mi sono comprato l'astropower. Perché tipo la cassa mi ha dato una roba come 300 monete. Cioè mi ha dato tipo un sacco di monete che mi mancavano e quindi... Mi sono comprato l'abilità stellare che useremo in questo video. Forse. Ma non perdiamoci i ghiacchieri ragazzi. Siamo su Food Brawl. Volevo fare... Volevo fare un'altra modalità tipo sopravvivenza, però non importa. Dai segnate! Muoviti! Muoviti! Sì mi godo. Godo come un riccio appena sputato fuori dalla patata. Eh vabbè hanno segnato, che fallo. Dai mi ride, figli di puttana. Scusate se non sono family friendly, però mi fanno porconare le mie percamine. Io può... No, calmo Tommaso, calmo. Non tirare porconi. Non tirare porconi. Sennò dopo non posso niente caricare il video. Tant'è non si fa le foto. Vabbè, facciamo una potutissima sopravvivenza. Ragazzi ci servono almeno cinque coppe Quindi meglio prenderle Oppure mi cazzo Uh qui c'è uno stronzetto Magari se mi fa andare avanti Lo uccido Lo stronzetto Se no lui uccide me No mi uccide Eh dai Tranquillo stai No 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 Amico Ciccio E dai E dai Più dieci coppe Enzo al grado dieci Cento punti stellari E vaffanculo Bene Niente Non ci hanno andato niente Oltre che cento punti stellari Ma ora Proviamo Bombardino Proviamo la La star power di Bombardino Che gli fa fare Centoquaranta danni in più Ed eccoci qua rega Ovviamente ho di nuovo i punti I punti vita Buggati Non so perché Tu muori Tu intanto muori Tu intanto muori Muori Ok Ok Eh rega Eh fa più danno Fa più danno Edda Perché attivo il gadget Ragazzi Se vi da fastidio a voi Quando dovete sparare Invece attiva il gadget Ditemelo Comunque guardate quanti danni faccio Cioè Fa molto più danni Ragazzi scontro finale Mi dovrei cambiare le impostazioni dei comandi C'è questo C'è questo bo Che adesso muori Perché se no No Eh no Muoio Muoio E va fanculo Vabbè Comunque Ho visto Che Bombardino È molto Molto più forte Adesso Nel prossimo episodio Ragazzi Mancano solo Dieci coppe Lo so Potrei farlo adesso Ma vi lascio con questa Con questo piatto sul collo Ecco Lo porteremo Porteremo Ambrogio Al grado Dieci Ma Enzo Come Come la chiamiamo Tipo La influencer Si fa sempre le foto Vabbè Ragazzi Per questo video è tutto Spero Che Appunto Questo video vi sia piaciuto E noi ci vediamo In un prossimo video Dico troppe volte video Ciao